Ciao a tutti da Massimo Gadda, sono felice, contento come sempre di poter fare gli auguri a tutti i tifosi dell'Ancona, di buon Natale, di buone feste. Viviamo un Natale diverso, difficile, per certi versi allucinante, così come allucinante è tutto il periodo che stiamo vivendo, la speranza è di tornare alla normalità, alla vita normale il prima possibile. Vi faccio un caro augurio, ripeto, di buon Natale, felice anno nuovo, vi auguro tanta felicità, soprattutto tanta salute che è la cosa più importante, vi abbraccio con il cuore, siete sempre nei miei pensieri, nel mio cuore, perché quello che mi avete dato in otto anni di militanza nell'Ancona è qualcosa di impagabile che non potrò mai dimenticare e quindi ogni volta che ho la possibilità torno ad Ancona perché Ancona alla fine è la mia città. Vi abbraccio a tutti, ciao!